Siamo tornati con le recensioni by Mr. Pitt, questa volta quartiere Vomero-Arenella, Piazza Leonardo, Osteria Canterbury, locale piccolo ma accogliente, classica cucina napoletana, antipassi e sfizzi veramente ottimi, da segnalare il tortino Ferrarielli e Baccalà. E non parliamo di primi piatti, pasta e patate con provola in calte e poi The Queen, la genovese, una genovese che come diciamo a Napoli va a Nanzorre, ultimi ma non ultimi i dolci, tante scelte e tutti buoni, esperienza da rifare assolutamente. Lasciate un like, commentate, alla prossima nuove recensioni.